Buonasera a tutti e benvenuti al nuovo video e perché faccio questo video? Perché ho visto che finalmente è stato approvato il PEBA che cos'è il PEBA voi direte? Il piano abbattimento barriere architettoniche che si spera consentirà l'accessibilità finalmente a tutte quelle persone ad Arezzo che fino ad adesso non ce l'avevano finalmente Arezzo è pronta spero per diventare una città accessibile a tutti per quanto mi riguarda che cosa vorrei dire? Vorrei dire che sono molto felice di aver contribuito con tutte le mie segnalazioni i miei video di denuncia, le mie interviste, i miei progetti e le mie rotture di scatole a far sì che questo piccolo grande sogno si realizzi perché è ora veramente che la città di Arezzo si dia una svolta a questa cosa è ora appunto di cambiare e vorrei ringraziare anche la giunta comunale per aver permesso tutto questo non solo ma vorrei ringraziare anche tutte quelle persone che hanno contribuito al PEBA anche io lo ammetto non è che ci sono andata tante volte ho fatto due incontri soli e infine vorrei ringraziare tutte le persone che ogni giorno sostengono e supportano i miei progetti quindi infine che cosa vi dico? grazie a tutti e buone feste ciao